Festival della fantasia per la Venere di Milo. Alcuni archeologi greci affermano di avere ritrovato le braccia della più famosa statua del mondo. Saranno queste? Cioè le braccia di una Venere al bagno o di una Venere viva dello striptease? Forse Venere era invece una casalinga, a meno che non le piacesse seguire il marito vulcano all'osteria. O era una dea poliziotto addetta alla disciplina del traffico? O una Globetrotter dedita all'autostop? In tal caso queste sarebbero le inevitabili conseguenze di una gita in macchina sulle nostre strade.